Vi ricorderete che un po' di tempo fa avevo fatto un video dove parlavo di una possibile guerra tra Athena e i mititori. Questo perché la Rare aveva per errore messo nel gioco delle onoreficenze e anche oggetti sbloccabili che riguardavano Athena e mititori e facevano pensare proprio ad una battaglia. Ieri sono venuto a sapere che hanno intervistato Mike Chapman che per chi non lo conoscesse è uno dei pezzi grossi di Sea of Thieves e nell'intervista ha detto che la season 8 sarà centrata molto sul pvp. Quindi facciamo uno più uno. Hanno messo per errore della roba sbloccabile con sopra la faccia di Ramsey e di Flameheart e il signor Mike parla di una stagione centrata sul pvp. Quindi dando per scontato che la season 8 sarà appunto una battaglia tra la fazione di Athena e quella dei mititori, come sarà? Secondo me ci verrà chiesto di scegliere da che parte stare e poi probabilmente bisognerà attaccare, quando la si trova, la fazione nemica e probabilmente in base ai nemici sconfitti ci verranno dati dei punti con i quali potremo sbloccare onoreficenze e oggetti.